Dammi soldi o ti ammazzo, così avrebbero minacciato di morte l'ex datore di lavoro e una dipendente della ditta per liquidare subito un trattamento di fine rapporto. Ma le vittime hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri e così per due uomini, padre e figlio, è scattata la denuncia per minaccia aggravata. È successo a Montevarchi nei giorni scorsi. I due, infatti, si erano recati nell'azienda Edile, dove il padre aveva lavorato a partire dal 2013 e dalla quale si era licenziato alcune settimane fa per motivi personali. Qui hanno minacciato di morte il legale rappresentante ed una dipendente. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il motivo sarebbe stato appunto quello di ottenere in tempi rapidi il pagamento del TFR, che ammontava circa 7.000 euro, denaro che l'imprenditore, intimorito sia per la sua sorte che per quella della dipendente, avrebbe pagato dopo le minacce. Ma entrambe le vittime, poi di comune accordo, hanno deciso di rivolgersi ai militari della stazione di Montevarchi, che hanno denunciato i due e riportato i fatti all'autorità giudiziaria.